Musica Ben trovati anche oggi dalla redazione aquilana del TG di TV6, l'Aquila. In apertura la cronaca giudiziaria, parliamo del processo Sanitopoli al secondo atto. Anche oggi nell'aula dibattimentale della Corte d'Appello dell'Aquila, l'ex governatore Ottaviano del Turco coinvolto nel maxiprocesso su presunte tangenti nel mondo della sanità abruzzese. Oggi è stata la volta delle responsabilità e delle responsabili civili del processo, tra queste la Deutsche Bank, ma vediamo tutti i particolari nel servizio di apertura. Sono fatture pagate, scadute, la regione avrebbe dovuto pagarle, la Deutsche Bank aveva diritto a pretendere un pagamento con un tasso di interesse molto significativo. Secondo atto del processo sulla Sanitopoli abruzzese, che nel 2008 fece cadere la giunta regionale di centro-sinistra, allora guidata da Ottaviano del Turco, ex ministro delle finanze ed ex presidente della commissione antimafia. Nell'aula dibattimentale della Corte d'Appello dell'Aquila oggi, per la seconda udienza, le responsabili civili del processo sul presunto giro di affari e mazzette della sanità abruzzese, pubblica e privata. Tra le responsabili civili la Deutsche Bank, rappresentata in aula dal legale Massimiliano Danusso, in difesa dell'istituto bancario, che provvedeva ai saldi delle fatture emesse a nome del grande accusatore Vincenzo Angelini. Erano le fatture dei crediti che Deutsche Bank aveva regolarmente acquistato e rispetto alle quali si attendeva il pagamento da parte delle Asla. Noi siamo sicuri di aver evidenziato tutti gli elementi per cui non c'è alcun coinvolgimento di Deutsche Bank e dei suoi dipendenti in questo processo. Sul banco degli imputati, anche oggi così come è stato per la prima udienza, l'ex governatore d'Abruzzo, La maxinchiesta Sanitopoli portò all'arresto e successivamente alla condanna, tra gli altri, dell'ex presidente della regione Ottaviano del Turco, accusato dei reati di associazione per delinquere, corruzione, concussione, tentata concussione e falso. Insieme al governatore d'Abruzzo sono coinvolti nel procedimento Lamberto IV, ex segretario generale dell'ufficio di presidenza della regione, e l'ex capogruppo regionale del Partito Democratico Camillo Cesarone, condannati in primo grado rispettivamente a sei anni e sei mesi e a nove anni. L'appello inoltre riguarda anche l'ex patron della clinica privata Villapini di Chieti, Vincenzo Angelini, condannato dal Tribunale di Pescara a tre anni e sei mesi, l'ex manager dell'Asla di Chieti, Luigi Conga, a nove anni, l'ex parlamentare di Forza Italia, Sabatino Aracu, condannato a quattro anni, l'ex assessore regionale Antonio Boschetti, quattro anni, l'ex assessore regionale alla sanità Bernardo Mazzocca, due anni. La corte d'appello si occuperà anche di Gianluca Zelli, ex amministratore delegato della Human Gest, e di Angelo Bucciarelli, entrambi assolti in primo grado, Francesco Di Stanislao, ex direttore dell'Agenzia Sanitaria regionale, e Pierluigi Cosenza, ex presidente della Commissione Ispettiva Permanente della regione Abruzzo. Le altre odienze si terranno domani, 10 ottobre, e successivamente il venerdì e il sabato di ogni settimana. La sentenza è prevista per fine anno. Fausto Cardella, il procuratore della Repubblica dell'Aquila, ma anche il responsabile della direzione distrettuale, antimafia e antiterrorismo per l'Abruzzo, dà la disponibilità della nostra regione alla proposta del procuratore del Dipartimento Nazionale Antimafia Laudati di un protocollo d'intesa nazionale. Cardella ha difatti candidato la procura dell'Aquila come la prima in Italia a dare al via al progetto della direzione distrettuale antimafia. È stato intanto firmato un protocollo d'intesa sulle indagini finalizzate alle prevenzioni dei reati. patrimoniali tra i rappresentanti del Dipartimento Nazionale Antimafia e i procuratori delle quattro province abruzzesi. E ancora cronaca giudiziaria, dopo oltre un anno è arrivata a definizione con 36 indagati l'inchiesta della Procura della Repubblica dell'Aquila sul crollo di un balcone di un alloggio della palazzina antisismica della New Town di Cese di Preturo all'Aquila. Una delle 19 New Town dei progetti case. Il mega insediamento realizzato dopo il terremoto del 6 aprile per dare un tetto a oltre 16.000 aquilani alloggiati in circa 4.500 appartamenti. Le indagini sono scattate il 2 settembre del 2014 quando un balcone si è staccato dal secondo piano della palazzina per difetti di costruzione e utilizzo di materiale scadente cadendo su quello sottostante. Le accuse a vario titolo sono di crollo colposo, truffa in pubbliche forniture e una serie di falsi. Secondo quanto si è appreso a partire da lunedì 19 cominceranno le notifiche degli avvisi di garanzia e successivamente gli interrogatori per le persone che dovranno chiaramente chiarire quanto è accaduto. Dopo il crollo sono stati sequestrati circa 800 balconi degli alloggi dei progetti case e balconi realizzati in legno in 494 appartamenti in tutto il territorio aquilano. E torniamo a parlare dei precari del comune dell'Aquila. Si prospetta all'orizzonte un piano B per quella che appare a tutti gli effetti una storia infinita. Infatti il dirigente del personale ribadisce il no ai rinnovi dei contratti, all'orizzonte un piano B attraverso una selezione per titoli e anche l'attivazione di una graduatoria per aggirare il divieto di proroga dei contratti imposto dalla Jobs Act. Sentiamo tutti i particolari nel servizio di Antonella Calcagni. Seduta a fiume della Commissione Garanzia e Controllo sul caso dei precari del comune con la presenza massiccia dei lavoratori e dei sindacati in aula. Il clima è diventato rovente quando il presidente Raffaele Daniele ha dato lettura di una mail dell'assessore Betti Leone e della dirigente Ilda Coluzzi tesa a motivare la loro assenza alla luce della impossibilità di portare ulteriori elementi di novità all'avvertenza. Poi verso le 13 il colpo di scena. Su richiesta della sindacalista CGL Rita Innocenzi il presidente Daniele ha contattato telefonicamente la dirigente Coluzzi riuscendo a convincerla a partecipare ai lavori della Commissione. Dalla Coluzzi tuttavia non sono arrivate speranze per i lavoratori. Il timore resta quello di un'esposizione al danno erariale in caso di rinnovo dei contratti scaduti il 30 settembre scorso. In Commissione tuttavia la dirigente ha lasciato intravedere la possibilità di un piano B un bando per titoli contenente una corsia preferenziale per i 56 precari che consente attraverso un nuovo rapporto di lavoro di aggirare la forca dei 36 mesi imposta dalla Jobs Act. Solo avviando questo percorso sarà possibile offrire una vera chance ai lavoratori traghettandoli magari anche verso la stabilizzazione come ha spiegato la Coluzzi ribadendo il suo no al rinnovo dei contratti impossibile a suo dire perfino fino alla fine dell'anno. Certo è che la vicenda dei precari ha provocato uno scollamento fra il Consiglio favorevole al rinnovo e la Giunta a sua volta spaccata come sottolineato negli interventi da Guido Liris e Giorgio De Matteis e in seno al PD. Allora, chiedono i sindacati, come è stato possibile il 2 luglio scorso rinnovare i contratti di sei precari con anzianità maggiore a 36 mesi? Il Jobs Act era già a legge eppure è stato fatto. È evidente che il caso sta prendendo una connotazione sempre più politica infatti sempre ieri il GOTA del PD, fra gli altri il governatore D'Alfonso la senatrice Pezzopane e il sindaco Cialente hanno avuto un incontro teso a superare il momento di frizione. E sui precari del Comune dell'Aquila sentiamoci l'intervista al consigliere comunale di Forza Italia Guido Liris che è intervenuto sull'argomento. La vicenda dei precari assume sempre più connotazioni politiche ed uno scollamento fra l'Aggiunta che sembrerebbe contrario ed il consiglio che invece sarebbe favorevole. A questo punto il consiglio che cosa dovrebbe fare secondo lei? I consiglieri non possono più trincerarsi dietro pareri dei dirigenti e neanche dietro un'autonomia dell'amministrazione comunale e dell'Aggiunta. Sappiamo tutti che in democrazia funziona in una maniera ben diversa cioè che sono dei consiglieri comunali in particolar modo di maggioranza a reggere gli assessori in Giunta, a reggere e a legittimare la loro azione politica e amministrativa. Quindi nel caso in cui l'amministrazione comunale e quindi l'Aggiunta non è pedisseco e coerente rispetto alle indicazioni del Consiglio non c'è che un modo e cioè che i rispettivi consiglieri i rispettivi gruppi politici di maggioranza in Consiglio tolgano la fiducia agli assessori che evidentemente non sono lineari e coerenti rispetto alle azioni politiche, alle posizioni politiche della maggioranza. Dopodiché abbiamo potuto verificare come probabilmente anche dentro l'Aggiunta non ci siano le idee chiare e non ci sia un univoca voce ma stando alle parole del Vice Sindaco di Rifoggio della conferenza stampa in cui lui ha detto di rappresentare tutta l'Aggiunta non ci rimane che chiedere ai singoli assessori di differenziare la loro posizione altrimenti noi abbiamo, diamo per buona, l'unica posizione emersa dall'Aggiunta e cioè la contrarietà alla proroga dei precari. Voltiamo pagina e andiamo in Consiglio regionale dove fino a tarda serata, quella di ieri naturalmente, si è svolta la seduta che ha tra gli altri argomenti toccato un tema sicuramente molto scottante quello delle trivellazioni sulla costa adriatica allora sentiamo il servizio di Germana Dorazio. Due leggi approvate all'unanimità che provano a erigere una fragile barricata contro la realizzazione delle piattaforme petrolifere. Rinvio dell'istituzione del Parco della Costa Tiatina alla seduta del 13 ottobre. Questo è stato l'esito del Consiglio regionale urgente di ieri urgente ma per molti tutto sommato inutile. Il primo disegno di legge antitrivella è a firma del sottosegretario Mario Mazzocca Sinistra Ecologia e Libertà e del consigliere regionale del Partito Democratico Pierpaolo Pietrucci e reintroduce il divieto esteso alle 12 miglia dalle coste delle attività di prospezione ricerche e coltivazione di idrocarburi. Pensata per impedire la realizzazione della piattaforma Ombrina Mare a largo della costa dei Trabocchi nel Chietino che potrebbe avere il via libera dal governo il 14 ottobre con l'ultima e decisiva conferenza dei servizi. La seconda legge è a firma di Sara Marcozzi consigliere regionale del Movimento 5 Stelle una proposta di legge di iniziativa regionale alle Camere che oltre al divieto delle 12 miglia in tutti i mari italiani intende aumentare le scarne royalties che le compagnie petrolifere versano agli enti locali appena 70 milioni su 7 miliardi di ricavi ha sottolineato Marcozzi ottime le intenzioni ma entrambe le norme cheppure sono state votate all'unanimità e stato più volte ribadito nella serrata discussione in aula rischiano di risultare delle vere e proprie leggi fuffa la competenza autorizzativa in materia di trivelle infatti del governo le regioni non hanno potere infatti hanno indetto un referendum che intende rivedere la legge sblocca Italia la Corte Costituzionale respingerà dunque con ogni certezza il provvedimento di Pietrucci Mazzocca per stessa ammissione dei proponenti mentre la legge Marcozzi dovrà comunque essere approvata al Parlamento in tempi che si può prevedere non saranno certo brevi e con un governo Renzi che sulle trivelle ed è molto diverse rispetto alla minoranza pentastellata alle Camere e così lo scontro in aula si è consumato sulle responsabilità storiche della deriva petrolifera in Italia e in Abruzzo in particolare le opposizioni hanno accusato il governo Renzi di aver cancellato i limiti posti alle trivelle dal governo Berlusconi tra cui il limite delle 12 miglia che ora i consiglieri regionali di maggioranza accusati di essere dei farisei ripropongono con una legge che tra qualche giorno sarà cancellata dalla Corte Costituzionale la maggioranza insomma ha ribadito che intanto è importante dare un segno di forte contrarietà e ha ricordato che a dichiarare l'Abruzzo regione strategica per l'estrazione petrolifera è stato invece proprio il governo Berlusconi e veniamo allo sport l'Aquila Calcio in cerca del riscatto con il Savona una partita molto importante in programma per domani l'11 di Mister Perrone cerca ora dunque un riscatto dopo gli sfortunati eventi delle ultime giornate la squadra non si abbatte riparte di slancio il tecnico è fiducioso alla vigilia del match ma il servizio e tutti i particolari li ascoltiamo nel servizio di Gianmarco Menga Stavolta non si può proprio sbagliare dopo tre sconfitte di fila l'Aquila è chiamata domani pomeriggio a fare bottino pieno contro il Savona in un match che si preannuncia come il primo vero scontro salvezza della stagione i rosso-blu dovranno fare a meno a centro campo di De Francesco squalificato mentre in difesa si dovrebbe rivedere Anderson al fianco di Maccarrone per rinforzare il pacchetto centrale che dovrà vedersela contro l'ex di turno l'attaccante Francesco Virdis la scorsa annata in rosso-blu nonostante di lui si ricordi solo lo splendido gol contro l'Ascoli nel mese di gennaio curiosità Virdis ritroverà al fattore il DS aquilano Alessandro Battisti con cui giocò a Chieti nel 2005-2006 nel suo primo anno tra i professionisti su Virdis e sul suo Savona le parole del tecnico dell'Aquila Carlo Perrone a margine della conferenza stampa della Vigilia è un ottimo giocatore Virdis è un giocatore da tenere sotto controllo perché è veramente un grosso realizzatore ma non c'è solamente lui ci sono altri giocatori importanti da cui dovremmo stare attenti è una partita molto importante perché è uno scontro diretto noi non ci nascondiamo noi insomma dobbiamo cercare di fare punti il prima possibile per allontanare le zone basse della classifica Bene, con questa notizia termina il TG TV6 L'Aquila io vi ringrazio per la cortese attenzione e vi auguro un buon proseguimento con i programmi di TV6 Grazie a tutti Grazie a tutti Grazie a tutti